Infatti, siamo incazzati i neri, no? Vero! A poco. Ok, grazie. Come parlamentari milanesi abbiamo voluto scegliere una lette al prefetto per sottolineare la gravità della situazione sociale nella nostra provincia in seguito alla crisi economica che sta picchiando molto duro anche qui da noi, sono numerose le fabbriche in crisi, ho visitato alcune, da Ciliceo a Paderno a Pugliano, a Sesto San Giovanni, ed è una realtà che purtroppo rischia di aggravarsi nelle prossime settimane perché non vediamo segni consistenti di ripresa economica. Chiediamo che venga monitorato il sistema del credito verso le imprese, che laddove ci sono enti pubblici che sono debitori verso le imprese si accelerino al massimo i loro pagamenti in modo da creare una liquidità, di mettere il sistema della Cassa dei Posti del Paese a disposizione delle imprese per lavorare, che in tutto il sistema del sociale passi da una politica passiva da una politica attiva, quindi si lavori perché le imprese possano riprendere a lavorare e soprattutto ci sia chiara l'emergenza che i lavoratori soffrono in questo momento. Non possiamo pensare che quest'area diventi un'area post-industriale, che cosa succede a questi territori va assolutamente monitorato. Il prefetto, il rappresentante del governo sul territorio, deve assolutamente attivarsi perché ciò accade. Abbiamo bisogno come Partito Democratico di rilanciare, di stare a fianco dei lavoratori per rilanciare questa battaglia, per salvare l'impresa milanese, per salvare migliaia di posti di lavoro e per mobilitarci perché l'Italia esca in positivo da questa crisi e più rapidamente degli altri paesi.